Se la notte non riesce a portare consiglio a un governante saggio come voi, come può riuscirci con un popolo in revolta? Acaba! Lasciatemi solo. Devo pensare. È proibito passare! Leva da gamveglia a te. Non è possibile! Ordini dal capitano di giustizia! A quest'ora il tuo capitano già sta all'inferno. E in nome di sua maestà il viceretto ti dichiaro prigioniero del regno di Napoli! E adesso il nome del popolo napoletano lo può andare a trovare in un fame del capitano di lui. Bernardi! Bernardi, a dove stai? Ehm, sta finagato a mierda! No! No! Manni! 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 Manni!